sono arrivate le smentite sono arrivati dietro front ben trovati intanto ben trovati a tutti quanti voi mi riferisco soprattutto a chi sta continuando a dire che l'inter non per la non iscrivibile scusate se la chiamo ancora con il vecchio nome non può iscriversi al campionato è la non iscrivibile d'altra parte perché solitamente lo dicono poi pressati mediaticamente con il fango che ricevono poi tornano sui propri passi ebbene si aggiunge un altro un altro personaggio alla lista di chi apertamente dice quello che noi diciamo da tempo quindi non è che ce lo inventiamo anzi fra l'altro sul web si moltiplicano si moltiplicano canali rispettabili ci mancherebbe una persona meno come opinione perché dicono fake bugie che naturalmente offendono il sottoscritto offendono gli altri e che vogliono sapere perché io dico che non è iscrivibile ma è facilissimo perché non è iscrivibile è da quinta elementare quindi chi afferma che non sa perché la non iscrivibile non è iscrivibile no è da quinta elementare cioè facilissimo non c'è bisogno che ve lo diciamo ve lo raccontiamo lo ripetiamo sempre l'inter non può essere iscritto al campionato è una forzatura è una evidente e palese forzatura allora ai vari sacchi ai vari gasperini ai vari commisso no gente che piano 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 cominciano ad uscire fuori no cominciano ad avere coraggio cominciano ad avere forse un po' di onestà intellettuale in un mondo marcio qual è il calcio italiano attualmente e allora questi nuovi piccoli grandi youtuber per me non esistono youtuber piccoli per me sono tutti grandi anche quelli che parlano contro di me perché ogni ogni parola che viene detta è sempre motivo di rispetto verso gli altri ci mancherebbe altro siamo in democrazia per cui è evidente e chiaro poi che mi offendono continuamente le offese tornano al mittente mi vengono dietro perché perché loro non sanno quello che fanno però in parte li comprendo perché intanto sono ignoranti o sono anche volutamente ignoranti perché non si vanno a leggere cose da quinta elementare chiaramente palese la non iscrivibile non può essere iscritta al campionato però loro insistono ma perché sì che continua a dire che la loro squadra un po non può essere iscritta al campionato non lo dice le sì cioè io posso essere posso dire se la non iscrivibile non viene iscritta al campionato piuttosto che il napoli il torino e la juventus o il mila non è che lo dico io lo dicono le carte lo dicono i fatti cioè lo sa tutto il mondo che questa è una squadra che non ha pagato i debiti e che è pignorata cioè quindi se non paga i debiti non ha le coperture finanziarie nemmeno perché se avesse avuto le coperture finanziarie il debito sarebbe stato pagato come è di una semplicità enorme no però loro che vivono nel mondo che abbiamo definito narnia mondo delle favole vivono nel dove lucignolo portò pinocchio li vivono loro in un mondo tutto loro perché loro sanno bene se non vivono in questo mondo non possono andare avanti non possono andare avanti ecco e quindi chiaramente logicamente tendano sempre di dare una motivazione diversa buttando fango veleno perché loro oltre al fango vivendo nel fango perché loro vivono nel fango calcisticamente parlando perché nella vita poi per carità vivono nel fango buttano un fango verso gli altri e allora non è solo vessicchio non è solo peter panno oppure gigio iuve oppure il bandito rosso nero che sta ritornando ad essere nuovamente presente su questa vicenda ma non è solo marietto questi sono dei fuori classe del web per come commentano le cose per cui per come sono preparati non sono soltanto anche normali youtuber che mi dicono queste cose ma ci sono degli addetti ai lavori e l'ultima ora un opinionista televisivo di una di grande importanza un uno che ha giocato a calcio in italia con squadre importantissime ha vinto scudetti ha detto la stessa cosa e andiamo a vedere che cosa ha detto eraldo picci che praticamente ha detto vanoli tecnico del torino mi piace mi piacciono molto gli allenatori bravi quelli bravi sono tiago motta e conte perché uno ha fatto spendere 160 milioni alla juventus l'altro 150 dell'aurentis il torino arriva sempre nono decimo o undicesimo se arriverà quinto saremo tutti contenti ma aspettiamo almeno per dare giudizio lo ha detto eraldo pecci ex centrocampista del torino della fiorentina e del bologna quindi non ha mai giocato con la juventus tra l'altro è stato anche una cerrimo nemico della juventus avversario più che nemico lo ha detto in occasione del premio nazionale romano fogli classe lealtà mondiali dal palco poi pecci lancia una una clamorosa frecciata alla non isclevibile dovrebbe giocare in quarta serie per i debiti che ha ma lo dice vessicchio lo dice sacchi lo dice gasperini lo dice commisso lo dice eraldo pecci non lo dice solo vessicchio vessicchio lo dice da molto tempo da tre anni circa e poi abbiamo visto come la situazione di lionel rock che molto grave molto grave perché gigio juve ha fatto un video io avevo le notizie perché me le manda il bernardini che c'ho una un amico molto molto simpatico che mi informa su tutto nel nel praticamente profilo twitter x di io non compro la gazzetta c'è appunto il documento che appare sul sito di lionel rock dove praticamente si dice la verità basta che la procura acquisisce quel video perdono quel documento sul sito di lionel rock e la devono togliere di mezzo quindi ci sono i presupposti ci sono i fatti non lo dice vessicchio a quale state buttando fango 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 perché vi dice la verità vessicchio perché vessicchio vi dice la verità andate sul sito di lionel rock e vedete cosa dice dice chiaramente tutto quello che non vorreste sentire è più semplice non c'è bisogno di indagini non c'è bisogno di guardia di finanza c'è bisogno di di alchimie varie non c'è bisogno di indagini la procura apre il sito di lionel rock e dice chiaramente guardate è irregolare la presenza della non iscrivibile al campionato non è iscrivibile è inutile ci sono 15 20 motivazioni chiare forti problema è e su questo praticamente stanno appoggiando le loro speranze i tifosi della non iscrivibile i tifosi di narnia che è quella relativa alla situazione situazione molto molto chiara ed evidente che non vogliono toglierla di menso per una questione economica allora dice bene alex j alex dice bene aldo di girolamo che affondano i colpi colleghi youtuber che affondano i colpi su queste vicende vicende che i giornali i siti importanti non non ne parlano che sanno bene perché diciamoci la vera se tolgono la non iscrivibile di mezzo e intanto per molti perdono i click tanti perdono per esempio la gazzetta dello sporco dovrebbe chiudere perché la comprano solo i tifosi della non iscrivibile non la comprano i tifosi della juventus non la comprano i tifosi del mila i tifosi del napoli la schifano cioè gli altri tifosi è finita se tolgono di mezzo la non iscrivibile la gazzetta dello sport chiude vanno a lavorare seriamente quelli là che tentano di fare giornalismo su quella su quel fogliaccio avete capito avete capito perché non la fanno si perdono tanti introiti si perdono tante situazioni economiche importanti per cui nonostante il chiaro ed evidente modo abusivo con il quale si presenta e allora è inutile che Antonello in maniera ridento risponde ai cloristi e che cosa doveva dire qui la Bialitta era tutto in regola non iscrivibile tutto in regola tutto in regola Marotta che continua a dire che è tutto in regola e che devono dire quei due là che non è niente in regola mentono no? sapendo di mentire sono dei menzogneri e sappiamo bene come sono dei menzogneri sia Marotta che Antonello ma io al posto loro avrei detto la stessa cosa cioè è comprensibile che devono dire noi siamo falliti e stiamo coprendo cioè anche chi riporta queste notizie ho visto delle trasmissioni ieri sera qualche trasmissione dice vabbè ma hanno risposto si risponde con i fatti si fanno vedere le carte è inutile che l'UEFA presenta i documenti farlocchi documenti falsi è inutile c'è la realtà dei fatti per cui non lo dice Vessicchio io ho come altri per loro la colpa di dirle queste cose di riportare dei fatti ma sono fatti chiari il problema è la Lega Calcio perché quando il presidente della Lega in maniera ufficiale fa quelle dichiarazioni francamente mente sapendo di mentire è la Lega Calcio perché la Lega Calcio sapete quando perde se la non iscrivibile non viene iscritta eh perde un sacco di soldi perché fra l'altro questi è inutile dire sono i più presenti sullo stadio sono quelli che fanno maggiori incassi cioè questi incassano tantissimi soldi perché hanno un pubblico fedele cioè sotto questo aspetto francamente sono invidiabili e molto probabilmente questo è uno dei motivi per i quali loro non vengono tolti di mezzo però la legge è uguale per tutti tranne che per loro a tutti i livelli e in Calciopoli loro sono che fanno illeciti illecito lo dice il documento di Palazzi l'accomandante non ha fatto illeciti ha fatto più articoli uno però doveva andare in serie B per il volere popolare detto Sandulli per il sentimento popolare gli assegnano a tavolino uno scudetto che in un campionato il 2005 dove non potevano essere iscritti perché non avevano pagato nemmeno lì andate a vedere se vi dice bugie vessicche andate a vedere non lo dice vessicchio la questione del passaporto di Re Copa Cassano dice non possiamo mandarla in serie B perché Moratti ha speso miliardi miliardi e miliardi l'anno del covid non pagano gli stipendi vengono quello pseudo scudetto e glielo assegnano e fanno una legge ad hoc per farli rientrare ma ancora succede non possono iscriversi al campionato perché non hanno i documenti chiari ed inequivocabili non la questione della Yore Rock la questione relativa alle Grand Tower relativa a Oca 3 a Zank che è stato chiaramente il parafulmine di Moratti e di Tronchetti Provera è inutile la foglia di figo cioè palese l'imbroglio queste scatole cinesi e quindi e quindi noi non li tolgono di mezzo e quindi fatevene una ragione non li tolgono e non li tolgono di mezzo e però noi quantomeno le dobbiamo dire queste cose o no noi quantomeno dobbiamo oppure dobbiamo passare pure per fessi e no buoni sì ma non fessi cioè è una squadra abusiva nel campionato italiano poi c'è l'effetto Rocchi che è un effetto ancora più serio di tutte queste cose perché se è vero come è vero che vogliono tenerla per salvare in parte l'economia del calcio italiano perché questo poi è il vero motivo è inutile che ci giriamo intorno perché questi sono illegali sono illeciti sono il problema è Rocchi è un problema serio perché lì andiamo nella frode che non la fa la ex inter non iscrivibile la frode la fa il sistema la fa la FGC la frode perché dare 500 mila euro a quel personaggio che racconta bugie possiamo dimostrarlo dagli 500 mila euro è che si fa trovare in fallo con l'unicolare nell'orecchio addirittura il braccialetto di quella squadra ex squadra di quell'associazione non iscrivibile futura associazione a delinguere se lo decide la procura di Milano che vi ricordo ha una inchiesta aperta con il modello 45 un'inchiesta sulla quale però sta molto avendo pressione già identità bianconera quindi quando Pecci parla quando Gasperini parla quando Commisso parla e lanciano questi sassolini nello stagno che poi si allargano si allargano prima o poi succede il patatrac quando possono tirare quando possono e se il consiglio superiore della magistratura gli viene in mente di andare a valutare l'operato della procura di Milano o se il guardasigilli manda gli ispettori alla procura di Milano sulla questione relativa a queste vicende e come vedete io non sono uno sciacallo non metto in mezzo il fatto di cronaca che si è verificato perché l'ho ritenuto dal primo momento estraneo al calcio e quindi continuo a ritenerlo tale per me quelle sono cose che vanno in altra direzione anche se la procura come vi ho detto in precedenza deve appurare se i vertici se Marotta ha dei rapporti con quelle persone con quelle organizzazioni anche perché da Torino nessuno mi smendisce è stato cacciato per i rapporti con la curva quella curva che sta facendo il processo e che purtroppo era affiliata a cosche malavitose i rapporti lo ha riferito a Andrea Agnelli all'antimafia per cui come conseguenza del suo riferimento della sua udizione all'antimafia ha dovuto cacciare Marotta chiaro no? guarda caso Marotta dove va? a Milano sponda non iscrivibile e ci sono problemi che ha avuto anche la Juventus e allora io non sto dicendo che Marotta è un mafioso o Marotta è affiliato no sto dicendo che la procura deve dirci ma non a me ai tifosi della non iscrivibile che sono le vittime già ve l'ho detto in altre circostanze deve appurare chiaramente se Marotta ha dei rapporti con questi io spero di no già ve l'ho detto in precedenza spero che non li abbia perché mi crolla un mito che è il calcio perché le ritengo infiltrazioni non soltanto a Milano ma un po' in ogni parte l'ho detto lo sto dicendo in questi giorni è una piaga questa delle infiltrazioni che abbiamo in Italia che le procure devono risolvere e che gli stadi dove si girano soldi loro naturalmente ci vanno a nozze quindi io voglio escludere voglio escludere un coinvolgimento del vertice nero azzurro però ce lo deve dire la procura perché io posso escluderlo come opinione ma no ci vogliono i fatti ecco perché allora parla Pecci parla Sacchi parla Gasperini parlano in tanti parlano in tanti ed ecco perché non parla la gazzetta dello sporco non parla perché se tolgono di mezzo questa squadra deve chiudere deve chiudere baracche e burattini perché sono burattini e se ne devono andare a lavorare d'accordo ecco perché ecco perché io non biasimo tutti coloro che si chiedono attraverso Youtube attraverso i gruppi di Facebook non biasimo che dice ma perché Vessicchio dice tutte queste stronzate non li biasimo probabilmente avrei detto la stessa cosa non accettando la realtà ma non è Vessicchio che ve lo dice non è Vessicchio non è Peter Pan non è Gigi O'Juve valiamo poco non è Marietto non è Bandito non è G Alex non è Di Girolamo non è Roberto D'Amico non è Mirko Kripp e tutti coloro che si stanno interessando a questa vicenda non siamo noi noi riportiamo dei fatti piccoli tifosi che utilizziamo questo questo mezzo di comunicazione ci sono i fatti e purtroppo ci sono i fatti e purtroppo c'è sempre la non iscrivibile in mezzo c'è sempre questa non iscrivibile che non viene non viene punita dice ma pure la Juventus dice la Juventus è sempre in tribunale però perché dite la Juventus è sempre in tribunale e avete ragione perché non dite però viene sempre assolta stiamo parlando del tribunale ordinario perché della giustizia sportiva voi sapete io cosa penso è farlocca è falsa è indrizzata quelli che valgono sono i tribunali dice la Juventus è sempre in tribunale giusto avete ragione ma perché non dite viene sempre assolta scusate perché dite le verità metà mi fermo qui potrei andare avanti però si aggiunge anche peggi alla lista della al coro della verità mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchi ad attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti